al bidona è un piccolo e antico centro montano calabrese posto tra l'alto ionio cosentino e il massiccio del pollino quasi ai confini con la basilicata fa parte dell'associazione borghi autentici d'italia e il suo territorio si estende sino al mare con un breve tratto di pineta e una piccola spiaggia il territorio di al bidona quindi si trova in una posizione particolare che va dal mare in prossimità della torre saracena fino al vero e proprio borgo l'aspetto più interessante è quindi quello paesaggistico l'altitudine di 810 metri sul livello del mare a meno di 10 chilometri dal mare permette di godere di spettacolari panorami lo sguardo può spaziare su tutto il golfo dello ionio da taranto a cariati fonti storiche narrano della nascita del piccolo borgo sulle rovine dell'antichissima città greco latina leutarnia fondata dall'indovino calcante esule dalla guerra di troia patria di elia astorini un medico filosofo matematico religioso giure consulto astronomo e letterato del 1600 testimonianza dell'esistenza di al bidona viene data in epoca medio latina da un documento forse un atto notarile risalente al 1106 nel centro storico suddiviso in rioni detti vicinanz è possibile visitare i ruderi del castello di castrocucco e gli storici palazzi signorili da gustare ad al bidona e la famosa salsiccia fresca inserita anche nella lista dei prodotti tipici calabresi affiancata da una numerosa serie di salumi come prosciutto soppressata capicollo gelatina di maiale lardo e pancetta tutti ricavati da maiali allevati localmente le pietanze tipiche possono variare a seconda dei periodi durante le festività pasquali è possibile degustare le trecce tipiche dette cullure gli indiusi fatti con spinaci o bietole o ricotta casereccia oppure la minestra tipica di pasqua fatta con asparagi uova salsiccia un formaggio tipico detto pallaccio e costolette di maiale durante il periodo natalizio sono invece immancabili le crespelle i cannaricoli e le frascelle anche le minestre variano in base alle stagioni minestra con le scorze rape e salsiccia zucca gialla con mollica e peperoni cruschi oppure con uova licurdia lardo olive nere e peperoni lagane con ceci o con latte o con fagioli e poi patate e peperoni cipolline selvatiche con uova o fritte insalata di peperoni arrostiti peperoni cruschi con olive nere fette di pane casereccio immerse nel grasso sciolto del maiale pizza con ciccioli con sardelle con verdure locali o con pomodori e peperoni tutte cotte in forno a legna oltre al pane e alla famosa pitta guscia il clima mite di albidona che si trova come ho detto a 12 chilometri dal mare e a 18 chilometri dall'alta montagna consente inoltre la coltivazione di ottima frutta bandorle noci ciliegie pesche albicocche prugne e mele selvatiche infine non mancano come dolce i fichi secchi farciti guscia salatini gliologisth koki i guscia salatini u bites bi öz